Inflazione oltre le attese, Italia ora peggio degli altri paesi europei, l'energia tira la corsa del caro prezzi. Covid cambia la linea del governo sui sanitari Novax che vedono il reintegro, non bisogna abbassare la guardia, ricorda Mattarella. La denuncia di Zelensky, 4 milioni di famiglie ucraine colpite dai tagli elettrici, Meloni conferma Italia con Kiev. Ora legale ultima giornata, questa notte si cambia con le lancette un'ora indietro e il meccanismo in vigore dal 1966.